Il Brescia trova il secondo successo consecutivo in trasferta battendo 2-1 al Modena. Dopo la splendida affermazione di Lanciano, Zambelli e compagni trovano la forza per superare anche l'ostacolo emiliano. Su un terreno di gioco pessimo ai limiti della praticabilità, soprattutto in certe zone del campo, i ragazzi di Alessandro Calori mettono in cascina altri tre punti importantissimi che riportano la zona play-off a due lunghezze. A decidere l'incontro sono i gol di Budel nel primo tempo e di Andrea Caracciolo nella ripresa. Nel mezzo la rete del momentaneo pareggio di stanco. Al fischio d'inizio Alessandro Calori lancia gli stessi 11 schierati nella sfida con il Lanciano. Il Brescia si dimostra subito in palla e Sodinia disegna calcio con lanci illuminanti e giocate sopraffine. Il Modena soffre la brillantezza degli uomini di Calori anche se Mazzarani all'undicesimo prova a mettere i brividi ad Arcari palla a lato. Ma è un fuoco di paglia, i bianco-azzurri tengono bene il campo e il gol arriva appunto all'al trentanovesimo. Finazzi per Zambelli che sfugge sulla corsia di destra, assist perfetto per la corrente Budel che di Mancino spedisce la palla sotto la traversa. Il Brescia vola sulle ali dell'entusiasmo e Corvia per poco non raddoppia. Il colpo di testa ravvicinato dall'attaccante romano si perde a fil di palo. In avvio di ripresa ti aspetti un Brescia straripante ma di contro trovi una squadra fragile che sbanda ad ogni iniziativa del Modena e così puntuale arriva subito il pareggio degli uomini di Dario Marcolin e il neo entrato stanco, fischiato al suo ingresso, a trovare la deviazione aerea vincente su una marcatura approssimativa di Antonio Caracciolo. Qualche minuto dopo il difensore ex Gubbio è protagonista di un fallo sulla Zarevic lanciato a rete, intervento che gli costa il secondo giallo di serata e la doccia anticipata. In 10 contro 11 il Brescia sbanda ma si rialza. Grazie ai cambi operati da Alessandro Calori i biancoazzurri mantengono un assetto propositivo, Mitrovic per uno stanco sodigna, Andrea Caracciolo per Corvia, le mosse del tecnico aretino. Proprio il airone torna a spiegare le ali dopo un lungo digiuno durato 144 giorni, insaccando di testa ad un minuto dal novantesimo un perfetto assist del solito immenso Zambelli. Vince il Brescia che torna a sognare in grande e respirare aria ad alta classifica.